www.feyyaz.tv Mi rimettono tra due giorni. Posso stare da te? Per quanto tempo? Non so. Ma non ci posso più stare. Ma i miei soldi? Sempre messa in la retina. Rilassati. Oh, i miei soldi fuori. Ma lo sai che sono? Ah, perché lo sapevo io che ne? Non so. Ma se muo io. Non so. 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 Non so.